...per un gruppo composto da sempre, da soli uomini, capire la voglia e la possibilità di ampliare la realtà delle voci bianche. È stato necessario confrontarsi, chiacchierare e poi, come fa un gruppo salto, unire le forze per mirare all'oggettivo. Sulla luna, Ilario e Francesco. Sulla luna c'è un bambino, lo vedo di notte, l'arriolettino. È un bambino che contola piano, che mi saluta con la mano. Sulla luna sta salto un cavallo, come un principe e un quarto palpato. Nella luna una stella adorata, che ritorna la sua calentata. Sulla luna sta salto un cavallo, come un principe e un quarto palpato. Sulla luna una stella adorata, che ritorna la sua calentata. Questa è una storia davvero curiosa, vorrei proprio sapere una cosa. Sulla luna una stella adorata, che ritorna la sua calentata. Sulla luna una stella adorata, che ritorna la sua calentata. Sulla luna una stella adorata, che ritorna la sua calentata. Sulla luna sta salto un cavallo, come un principe e un quarto palpato. Sulla luna una stella adorata, che ritorna la sua calentata. Sulla luna una stella adorata, che ritorna la sua calentata. Sulla luna una stella adorata, che ritorna la sua calentata.